Ci sono tre app, la Diopizzocard è un'app per i commercianti convenzionati al progetto Diopizzocard, è un'app che permette loro di leggere le Diopizzocard dei clienti consumatori Che li scelgono e decidono di aver destinato una percentuale del proprio acquisto A un fondo di solidarietà, a un fondo per la riqualificazione di aree degrate di Palermo L'app Diopizzo e quella Diopizzo Travel sono ad uso e consumo dei cittadini Della gente che vuole da un lato apprendere quali siano le attività commerciali iscritte a Diopizzo E nell'app Diopizzo Travel quali sono in ambito turistico i percorsi, le escursioni Le iniziative che si possono fare insieme organizzate da questa cooperativa Nata da una costruzione di Diopizzo che è Diopizzo Travel Le attività commerciali chiedono di iscriversi alla campagna di consumo critico anti-racket a Diopizzo Vengono valutate, accolte in caso di esito positivo di questo incontro E inserite fra le oggi mille attività commerciali iscritte Vengono insegnate sul nostro sito che comunica con l'app Quindi viene costantemente aggiornata E la gente accedendo a questi due strumenti informatici Può sapere in quale luogo di Palermo o provincia è ubicato Quale attività commerciale distinta per categorie merceologiche Grazie a tutti!